Voi avete visto che molti medici di base fanno resistenza, i pediatri fanno resistenza, cercano di procrastinare in avanti il momento in cui iniziare. Allora ho detto, visto che ci sono tutti questi problemi, mi offro volontari. Con estrema semplicità Giuseppe Rizzotto, primario emerito del reparto di Ottorino alla ringoiatria di Vittorio Veneto, ha voluto esporre le motivazioni del suo premuroso gesto. In pensione da un anno Rizzotto continua a lavorare gratuitamente in ospedale a Vittorio Veneto, tre giorni alla settimana e adesso che la Asla 2 ha deciso di spostare la sala operatoria del reparto a Treviso, il professore ha deciso di continuare ad essere utile in questo momento di estrema emergenza per la sanità del Veneto ed aprire un punto tamponi per gli assistiti accanto al pronto soccorso. Mai come ora, prima dell'arrivo di un vaccino, è importante tracciare le persone positive al Covid. L'isolamento è l'unica arma che noi sostanzialmente abbiamo. Questo servizio parte da oggi, siete stati veramente tempestivi. Siamo stati tempestivi in merito al dottor Rizzotto ma anche a tutto lo staff perché organizzare in pochissimi giorni un punto tamponi per tutto il distretto è una cosa impegnativa. Ma quello che ci rincuora è il fatto che, questo è un esempio concreto, che l'ospedale e il territorio in un momento così importante di pandemia danno assieme con forza una risposta ai cittadini per quelle che sono le esigenze in questo momento particolare. Qual è il complimento più bello che le hanno fatto? Credo che il complimento più grande me l'ha fatto Azaia quando mi ha detto che mi ha ringraziato molto questa roba. Quello è già stato una soddisfazione. Grazie a tutti.